La quarantena gli aveva aperto un mondo che fino ad allora ignorava Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova diretta Aveva perso il contatto con la vita reale Ma la svanti questa diretta? Lo vedi che non ti caga nessuno? Ogni giorno la sua compagna era costretta a riprenderlo, fino a quando? Ma lo vuoi capire che non ti caga nessuno? Facebook Non ti caga nessuno? No Instagram Non ti caga nessuno? No YouTube Non ti caga nessuno? No Prossimamente su Netflix Non mi interessa, io continuerò sempre ad avvitare e un giorno sarò famoso per questo La vita in diretta, un cast stellare Mai considerata Mario 5G Kenyu Reeves nella parte del cane Lisi Il cane Lisi nella parte di Kenyu Reeves La vita in diretta Da... Tra un po' Niente Per un po' Prossimazione E' Grazie a tutti! Grazie a tutti.